Il personaggio di cui vi voglio parlare oggi è un ricco mercante fiorentino, uno di quei tanti mercanti che nel corso dei secoli hanno fatto la fortuna di Firenze. Si tratta in questo caso di Tanai de Nerli, un buffonome che in realtà è un soprannome perché il personaggio si chiamava Jacopo de Nerli ma è conosciuto ormai come Tanai de Nerli. Questo personaggio ve lo voglio raccontare, vi voglio un po' così incuriosire sulla storia di Tanai perché è legato a due luoghi artistici di Firenze. Il primo è la cappella dei Nerli in San Salvatore al Monte. Se noi entriamo da l'ingresso laterale, quello abitualmente aperto, subito sulla destra troviamo appunto la cappella Nerli, un ambiente raffinatissimo costituito da tre piccoli vani in realtà, un piccolo vestibolo rettangolare voltato a botte, una la cappella, il vano della cappella vero e proprio quadrato voltato a crociera e poi un vano anch'esso rettangolare con volta a botte dedicato all'altare. Ecco, questa tripartizione in questi ambienti si rifà direttamente agli schemi che Leon Battista Alberti aveva elaborato per gli edifici religiosi, primo fra tutti San Sebastiano a Manto. E questo è un unicum a Firenze, quasi un unicum, è una cosa eccezionale perché sappiamo bene che l'architettura a Firenze è legata a doppio filo alle idee e alle novità di Filippo Runelleschi. Nella cappella troviamo nel pavimento una lastra terragna circolare che ci segna proprio il luogo della sepoltura di Tanaide Nerli. Ma i Nerli chi erano questa? È una delle tante famiglie ricche che ha fatto fortuna nei secoli, già a partire dal tredicesimo, dal duecento, poi nel trecento. Nel 1311 la famiglia però fu cacciata da Firenze per le solite lotte intestine e si trovò rifugio nel sud della Francia, in Provenza, in Languedoc e lì fecero la loro fortuna col commercio soprattutto della seta. Ritornarono a Firenze soltanto all'inizio del Quattrocento grazie a Cosimo il Vecchio e Francesco de Nerli, il babbo di Tanai, già nel 1438 è priore della Repubblica. Quindi con i medici iniziano la loro importante carriera. I Nerli avevano a Firenze un sacco di cappelle gentilizie, non una ma molte di più, una in Santa Croce, una in Santa Felicita, una nella Chiesa del Carmine, ben due a San Mignato, a San Salvatore al Monte e una anche a Santo Spirito. Tanai ben presto si ritrova unico erede della fortuna della famiglia perché il fratello Filippo muore in giovanità. Tanai, uomo intelligente, uomo capace, accanto alla carriera politica che porta avanti nella stagione di Lorenzo il Magnifico, aumenta notevolmente la ricchezza della famiglia grazie al commercio della lana che lui affianca a quello della seta. In questa carriera politica prestigiosa che Tanai de Nerli porta avanti con l'amicizia, con Lorenzo il Magnifico, si interrompe, questo suo essere partigiano dei medici, proprio con la morte di Lorenzo nel 1492, quando pian piano Tanai cambia posizione politica e da filo medicio diventa profondo anti-mediceo fino ad essere uno dei responsabili della cacciata dei medici di Piero il Fatuo, figlio di Lorenzo, nel 1494. Ecco, il primo ribaltamento, il primo ribaltone politico Tanai lo fa proprio in questi due anni, dal 92 al 94, perché Tanai cerca, mira alla fondazione di un nuovo potere oligarchico in Firenze insieme ad altri personaggi di famiglie importanti. Continua ad avere incarichi pubblici, però nel frattempo fa in tempo anche da anti-mediceo a trasformarsi in anti-savonaroliano, perché sarà uno dei principali nemici della Repubblica Teocratica fondata dal Savonarola e farà di tutto per farla cadere, fino ad arrivare alla famosa notte dell'8 aprile del 1498, quando il popolo, o almeno la parte di popolo contraria è fomentata contro il frate Domenicano, assalta il convento di San Marco. Tra i facinorosi, uno dei più attivi sarà proprio Jacopo de Nerli, figlio di Tanai, il quale rimarrà anche ferito, perché sarà ferito a un occhio da un crocifisso d'ottone che un padre Domenicano brandiva per difendere il confratello. Savonarola in quell'occasione viene arrestato e in questa vicenda si attribuisce a Tanai de Nerli, che in quel momento è gonfaloniere di giustizia della Repubblica, quindi è documentato che sia lui a inventare una punizione, ha l'idea di punire anche la campana di San Marco, che fu chiamata la Piagnona, perché i piagnoni erano i fedeli seguaci di Savonarola, e fu buttata giù dal campanile e si ruppe. Fu caricata su un carro trainato da ciuchi, da asini, e un boia, pensate, la frustò lungo il percorso attraverso la città, quindi con pubblica ignominia, e la campana fu portata proprio a San Salvatore al monte, perché lì i francescani erano sempre rimasti fedeli al Papa e contrari al Savonarola. Qui la campana, pensate, rimase muta per non molto tempo, perché pare che la prima volta che riprese a suonare fu nel 1498, proprio in occasione della morte di Tanai De Nerli. Prima di questo evento, però, Tanai fece in tempo ad avere la sua avventura politica più prestigiosa, perché proprio nei mesi della cacciata dei medici del 1494, nel novembre, lui fu uno dei partecipanti di un'importantissima ambasceria, composta da cinque persone, uno era Tanai, uno era Savonarola e poi altri personaggi importanti, un'ambasceria che la Repubblica di Firenze mandò a Pisa a Carlo VIII, perché Carlo VIII era sceso in Italia, re di Francia, per andare a conquistare il Regno di Napoli e voleva passare da Firenze. Bene, questi ambasciatori andarono a contrattare le migliori condizioni per la Repubblica, per non essere né depredata né assaltata. È in questa occasione, per celebrare questo importantissimo ruolo avuto da Tanai, che il mercante chiede a Filippino Lippi, uno dei principali pittori di questi anni a Firenze, la realizzazione di una pala da mettere nella loro cappella di Santo Spirito, l'ennesima cappella De Nerli. È tuttora lì la pala, è una delle più belle pale fiorentine di questo periodo, c'è raffigurato San Martino e Santa Caterina d'Alessandria, che sono i santi protettori del giorno di partenza e di ritorno dell'ambasceria a Pisa, e inginocchiati sono raffigurati sulla sinistra Tanai De Nerli e sulla destra la moglie Giovanna Capponi, detta nanna, i quali ebbero ben 16 figli, 10 maschi e 6 femmine. Ecco, questo continuo volta gabbana di Tanai De Nerli non fece bene alla sua fama in qualche modo, perché fu un po' un uomo buono per tutte le stagioni, prima Laurenziano, poi anti-Medicio, poi anti-Savonaroliano. E su tutto pesa appunto anche il giudizio del grande storico Francesco Guicciardini, il quale disse che Tanai De Nerli fu un uomo importante per ricchezze e per figli, ma non per le cose di Stato, perché era mosso dall'ambizione più che dal bene pubblico. Bene, spero di avervi incuriosito, un saluto, arrivederci.